Ben ritrovati anche oggi su Ritmi Batteria. Oggi un tutorial che dedico ai ragazzi della mia generazione è la sigla di un cartone che ha fatto impazzire veramente tantissime persone. Parliamo di UFO ROBOT! Come sempre vi ricordo che potete scaricare lo spartito completo dal link che trovate qui sotto. Diciamo che sono poche le parti da guardare principalmente, si ripete molto spesso il tutto quindi poi vi consiglio attraverso lo spartito di seguire appunto la struttura. Partiamo dall'introduzione entriamo con due misure con cassa in quattro. Sulla prima misura insieme al primo colpo di cassa troviamo anche il crash che poi per tutte e due le misure continuerà ad essere presente ma glissato. Terza misura che appunto vede sempre cassa in quattro. Sull'uno troviamo quattro sedicesimi di rullante. Sul due a partire dal secondo ottavo altri quattro sedicesimi di rullante che quindi continueranno fino al secondo ottavo del 3. Sul quattro semplice colpo di cassa. Misura successiva che si ripete. Attenzione sul quattro che però troviamo due ottavi suonati sul rullante. Li suono tutta la parte fino ad arrivare poi alla strofa. Strofa che vede il nostro groove base sempre con la cassa in quattro rullante sul due e sul quattro troveremo sempre il charleston in ottavi ma sull'uno e sul tre troveremo appunto una pausa insieme alla cassa. O altrimenti il charleston che possiamo mantenere anche a ottavi a mani alternate in questo caso sul due e sul quattro anziché suonare il charleston appunto suoneremo un rullante. Purtroppo è una linea che si fa fatica a capire durante il brano però indicativamente i suggerimenti sono questi. Prima del ritornello una misura che vede appunto sempre il nostro groove di base. Sul quattro troviamo un lancio diviso con due sedicesimi su rullante e il secondo ottavo sempre su rullante. Ritornello che vede sulla prima parte appunto sempre lo stesso groove quindi cassa in quattro rullante su due e su quattro. Charleston in levare con una leggera apertura fino ad arrivare a un altro lancio su rullante come quello appena visto. Dopo abbiamo degli appoggi di cassa e crash. Primo quarto secondo ottavo del due secondo ottavo del tre e sul quattro. Riprendiamo la misura che precendeva appunto la strofa per arrivare alla seconda strofa. Queste le parti principali. Proviamo anche sul finale un'altra variazione. Alla fine della spartita trovate finale ad lib. Mantiene sempre il nostro groove ma attenzione l'ostinato passa dal charleston alla campana del ride quindi sempre suonato sul secondo ottavo di ogni quarto. Ok ragazzi non vi resta che guardare le parti singole che vi ho spiegato. Come sempre vi suggerisco di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto perché appunto sto preparando tanto materiale nuovo. Mi frullerà anche per la testa qualche novità. Non lo so vediamo un po'. Il periodo può essere anche abbastanza creativo. Spero di ritrovarvi. Mi raccomando come sempre buon groove e buon divertimento. Alla prossima. Ciao!